Benvenuti su Prophecy, io sono Andrea e sin dal primo momento in cui ho avuto tra le mani questo Razer Phone, ancora prima di iniziare a testarlo ho provato ad immaginare cosa io avrei voluto su un dispositivo come questo. Pensato innanzitutto per essere il miglior dispositivo da gaming mobile e poi per essere anche un ottimo smartphone. Devo ammetterlo, non sono mai stato un grandissimo appassionato di giochi per smartphone ma avendo una certa esperienza sul PC gaming e più che altro sull'hardware che serve per giocare davvero alla grande su un computer, voglio provare a concentrarmi sugli aspetti che secondo me sono fondamentali per avere un'ottima esperienza di gioco. Il primo, a mio avviso, è la potenza bruta. Per far girare titoli mobile più recenti ad alta risoluzione e senza perdere nemmeno un frame, lo smartphone da gaming ideale deve essere necessariamente dotato di un hardware senza compromessi. E qui Razer non si è smentita scegliendo uno Snapdragon 835, semplicemente la migliore piattaforma mobile prodotta da Qualcomm al momento dell'uscita di questo dispositivo. E tra l'altro l'affiancata ha ben 8 GB di RAM che siamo tutti d'accordo su uno smartphone attualmente sono esagerati, non vengono mai sfruttati tutti quanti, però è anche vero che possono donare una certa longevità a questo dispositivo. Sistema on chip di questo livello però, così come gli 8 GB di RAM, possiamo trovarli anche su smartphone che costano decisamente meno dei 750 euro circa chiesti da Razer per acquistare questo smartphone. Quello che però su altri smartphone non troviamo sono degli elementi di contorno in grado di valorizzare appieno la potenza a disposizione. Ed è qui che Razer, appena entrata in questo mercato, ha deciso di fare un passo in avanti rispetto a tutti gli altri produttori di smartphone. Anzi, due passi in avanti per essere precisi. Il mio secondo requisito infatti è quello di avere un display con un refresh rate più alto, più elevato dei classici 60 Hz e quindi passo in avanti numero uno, il Razer Phone è il primo e attualmente l'unico smartphone al mondo ad avere un display che raggiunge i 120 Hz. Purtroppo è molto complicato farvi notare la differenza rispetto a un classico display a 60 Hz tramite queste riprese, ma è un qualcosa che quando lo avete davanti ai vostri occhi è impossibile non notare, anche solo scorrendo tra le schermate di Android, magari prima di lanciare un gioco. L'esperienza è davvero più coinvolgente e soprattutto nei giochi più frenetici, come ad esempio Asphalt 8, uno di quelli che ho provato, ogni animazione diventa semplicemente più fluida e più godibile. Come detto è molto difficile rendervi questa esperienza a parole o tramite anche le immagini, ma qualora ne aveste la possibilità recatevi in un negozio di elettronica, provate un monitor ad alto refresh rate o questo stesso Razer Phone perché è un qualcosa che non si può capire a mio avviso finché non lo si vede con i propri occhi. Il numero di titoli che già oggi supportano i 120 Hz, alcuni dei quali tra l'altro sono preinstallati da Razer su questo dispositivo, è abbastanza elevato e sono sicuro che crescerà con il tempo man mano che altri produttori implementeranno questa tecnologia. L'ampio display da 5,7 pollici di questo Razer Phone tra l'altro eccelle anche in termini di risoluzione. È un QHD con classico rapporto di forma 16-9 che quindi vi garantirà anche un'esperienza di gioco ottimale con i visori VR che sappiamo ormai si trovano di tutte le tipologie, di tutte le fasce di prezzo e che beneficiano moltissimo di display ad alta risoluzione. Ricapitolando i miei primi due requisiti per uno smartphone da gaming ideale, sono una potenza adeguata a far girare qualsiasi titolo e soprattutto la migliore esperienza visiva possibile. Per ora il Razer Phone ha fatto centro su entrambi, ma un aspetto molto sottovalutato e per me invece fondamentale per godersi appieno un videogioco è il comparto audio. Sull'ipotetico miglior smartphone da gaming quindi voglio sicuramente un sistema di speaker quanto meno stereo con una potenza elevata e con una qualità superiore alla media. Passo in avanti numero due, il Razer Phone è dotato di due grandissimi speaker frontali con supporto a Dolby Atmos. Il display a 120Hz rende l'esperienza di gioco più fluida, lo abbiamo capito, ma questi speaker vi fanno direttamente entrare nel gioco. Se avete mai posseduto una cassa Bluetooth di piccole dimensioni, beh immaginate che il Razer Phone ne integri una che punta direttamente verso di voi mentre giocate. Oltre ad essere più potenti della media, per farvi capire che sono amplificati indipendentemente, questi speaker sono frontali e forse è questo l'aspetto più importante perché non c'è dispersione, il suono arriva direttamente verso di voi e a mio avviso questo è il modo migliore per fluire di un contenuto multimediale. La risposta sonora di questi speaker può essere personalizzata con dei profili di equalizzazione o con una curva manuale dalle impostazioni di Dolby Atmos. Questi profili tra l'altro possono essere intercambiati in qualsiasi momento dai quick settings ed è un aspetto che torna molto utile quando si vuole magari passare al volo dall'ascolto musicale ad un videogioco. La qualità audio è al top anche con le cuffie grazie al DAC dedicato a 24 bit, tra l'altro certificato THX, però per forza di cose dovrete ascoltare con delle cuffie wireless, con delle cuffie con USB-C o utilizzando l'adattatore incluso in confezione perché il jack da 3,5 purtroppo non è presente. Insomma questo smartphone suona bene e soprattutto suona forte, state solo attenti a non tenere il volume troppo elevato quando state per rispondere ad una telefonata perché le vostre orecchie potrebbero avere una brutta sorpresa. Mancano a mio avviso ancora due aspetti fondamentali per avere un dispositivo da gaming mobile al top. Essendo infatti portatile voglio poterci giocare anche fuori casa a lungo. Da questo punto di vista nessun problema perché la batteria da 4000 mAh vi porta sempre fino a sera, anche con sessioni di gaming piuttosto prolungate e anche mantenendo il display sempre a 120Hz. Si può abbassare a 90 o a 60 ma personalmente non ne ho mai avuto la necessità. L'ultimo requisito fondamentale secondo me è un software che non limiti l'hardware a disposizione ma che anzi sia in grado di accentuarne i pregi. Ancora una volta penso che Razer abbia fatto la scelta giusta perché invece di provare a realizzare una skin proprietaria che avrebbe richiesto moltissimi investimenti e soprattutto moltissimo tempo di sviluppo con il rischio poi di risultare anche solo pesante per il sistema, si è affidata ad Android Stock in versione 7.1 Nougat. Anche se da quello che so l'aggiornamento ad Android 8.1 dovrebbe essere davvero imminente. Ho detto Android Stock è vero ma in realtà Razer ha introdotto delle personalizzazioni giustamente per dare carattere a questo smartphone, per renderlo un po' diverso dagli altri anche in termini di software e soprattutto per introdurre delle funzionalità dedicate al gaming che su Android non sono nativamente presenti. Sto parlando ad esempio di un negozio di temi dove tra l'altro ci sono anche alcuni degli sfondi Razer più belli che sono anche scaricabili per PC e soprattutto del game booster. Razer già da anni ha a disposizione un software omonimo su PC ma a mio avviso un game booster su uno smartphone inizia ad avere tutto un altro senso. La possibilità infatti di selezionare singolarmente per ogni gioco la risoluzione, il frame rate ma anche la frequenza del processore sono degli ottimi modi per risparmiare batteria qualora magari in alcuni giochi meno frenetici non avessimo bisogno del massimo delle prestazioni o comunque del massimo della risoluzione. Un discorso del genere almeno su un PC fisso avrebbe poco senso perché ovviamente non c'è alcuna batteria da risparmiare quindi vogliamo sempre le massime prestazioni, sempre la migliore esperienza di gioco possibile. Arrivati a questo punto penso abbiate capito che secondo me il Razer Phone è un dispositivo eccezionale per godere dei giochi presenti sul Play Store di Google. L'unico problema del Razer Phone e so che sembra strano a sentirlo a mio avviso è quello che oltre ad essere un dispositivo da gioco è anche uno smartphone. Per questo motivo sapevo che in qualche modo mi sarei trovato di fronte ad alcuni compromessi nell'esperienza di utilizzo quotidiana. Dopotutto questa per Razer è una prima volta e realizzare un dispositivo che sia perfetto per giocare ai giochi Android e che al contempo sia uno smartphone top di gamma da consigliare a chiunque non solo ai gamer più appassionati ad occhi chiusi sarebbe stato veramente un miracolo. Sappiate quindi che se le ottime prestazioni lo rendono di fatto un fulmine anche quando non si gioca, che se il display a 120Hz, gli ottimi speaker e la batteria veramente durevole sono comodi anche nell'utilizzo quotidiano, lo stesso non si può dire dell'ergonomia e della fotocamera che oggettivamente sono le due criticità di questo smartphone. L'aspetto estetico è un qualcosa da valutare personalmente, io penso che questo look industriale e queste linee squadrate siano veramente adatte ad un pubblico di gamer. Lo stesso design squadrato però unito a delle dimensioni parecchio generose lo rendono di fatto complicato da utilizzare con una sola mano. Il lato positivo però dell'avere queste linee squadrate e di avere un certo spessore è la possibilità di implementare lo sblocco con le impronte sulla parte laterale dello smartphone che a mio avviso è comodissima e sono davvero contento che Razer abbia scelto questa strada piuttosto che magari posizionarlo sul retro. L'aspetto sicuramente meno riuscito di questo Razer Phone è il comparto fotografico, non tanto per l'hardware utilizzato, abbiamo due moduli posteriori da 12 megapixel, il principale con apertura f1.7 e una fotocamera frontale da 8 megapixel, quindi più o meno le specifiche ci sono. Il vero problema è l'implementazione software molto scarna, l'app fotocamera è ridotta all'osso e l'unico modo per sfruttare le due fotocamere posteriori è con uno zoom ottico 2x, quindi nessun effetto bokeh o ritratto che vanno tanto di moda adesso e soprattutto altra criticità da segnalare, manca lo slow motion dei video, quindi sul comparto fotografico c'è ancora lavoro da fare per questo dispositivo. Quello che penso è che questo smartphone sia una base di partenza davvero ottima per Razer che sono sicuro saprà lavorare sulle criticità e saprà al contempo migliorare quanto c'è già di buono sul Razer Phone. Concludo quindi scusandomi perché sono sicuro che il video sarà venuto lungo ma c'erano davvero parecchi aspetti da trattare, anche se non ho voluto impostare questo video come una classica recensione di uno smartphone, anche perché ce ne sono già tante sul Razer Phone online, molte delle quali tra l'altro fatte da chi tratta smartphone ogni giorno e quindi vi sa dare anche un parere più approfondito sull'aspetto non gaming di questo prodotto. Quello che ho voluto fare io invece è stato darvi un parere da chi gioca su PC, da chi come vi dicevo all'inizio conosce bene l'hardware che serve per giocare alla grande su PC e che si è trovato di fronte un dispositivo che prima ancora di essere uno smartphone è un dispositivo pensato per i giocatori e sono sicuro che i giocatori che acquisteranno il Razer Phone non rimarranno delusi sotto questo aspetto. Il video quindi giunge al termine e voglio ringraziare Razer per averci dato la possibilità di provare il Razer Phone, piuttosto fateci sapere con un commento se vi fosse piaciuto e se vi va lasciate anche un bel like. Vi ricordo solo che in descrizione trovate i link ai nostri profili social e soprattutto la mail alla quale contattarci per consigli e configurazioni. Da Andrea è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!